Noi abbiamo degli obiettivi molto precisi, vorremmo fare una squadra che duri nel tempo, soprattutto una squadra che possa ritornare con stile, con classe, con cuore sulle scene nazionali e internazionali per ridare al Milan la sua tradizione e per dare ai tifosi rossoneri quello che il cuore dei tifosi rossoneri ha dato a Dio. Come questo possa articolarsi nel tempo? Beh, innanzitutto speriamo quest'anno di poterci prenotare un posto in Coppa UEFA, quindi il nostro obiettivo di quest'anno è arrivare nei primi cinque per poter partecipare a una Coppa internazionale a partire dall'anno prossimo. L'anno prossimo la squadra sarà ritoccata se ciò si rivelerà opportuno nelle parti necessarie e credo che soltanto a partire dal terzo anno noi potremo iniziare a cambiare ogni anno un giocatore o due per avere una squadra veramente competitiva per il primato. Quindi il periodo che ci si presenta davanti è un periodo di studio, di preparazione, di apprendistato, lo detto e lo ripeto, anche per tutta la dirigenza di questa nuova squadra i risultati sportivi arriveranno. Arribaranno!